Al Via Cali, in Colombia, la COP16, per tutelare la ricchezza di vita del pianeta Terra. Dal 21 ottobre al 1 novembre, oltre 12.000 i rappresentanti di governi nazionali, inclusi 10 capi di Stato, pronti a trovare un nuovo accordo sulla protezione di specie animali e vegetali a rischio a causa dei cambiamenti climatici, dell'inquinamento e della perdita di habitat. Presenti, inoltre, ambientalisti ed ecologisti, da sempre in prima linea nella salvaguardia del globo. Una grande opportunità per una delle nazioni con la maggiore biodiversità al mondo, il commento del ministro dell'Ambiente e dello Sviluppo Sostenibile della Colombia e presidente della COP16, Susana Mouhamad. Tra gli obiettivi del convegno, la protezione del 30% delle terre e dei mari entro il 2030, la COP16 sia la COP dell'agente, afferma il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres.